Il 13 marzo, buongiorno, buon inizio settimana dalla redazione di La Cineuse 24 e da Alessio Bompasso. Come ogni mattina scopriremo insieme i fatti più importanti riportati sulla stampa nazionale, soprattutto sulla stampa locale perché di fatti che riguardano la nostra regione approfondiremo ovviamente le questioni che andremo proprio a trattare anche con l'aiuto di servizi realizzati dalla nostra redazione. Allora direi di partire subito sulle questioni internazionali perché caldo caldissimo è lo scontro tra la Turchia e l'Olanda e andiamo a vedere questa notizia riportata stamattina sulla prima pagina dei maggiori quotidiani nazionali e partendo proprio dal Corriere della Sera il titolo. Eccolo qui, Erdogan. L'Olanda pagherà nuovi stop ai comizi turchi nelle città europee. Ancara, voi nazisti e islamofobi. Crisi, leader, chiede sanzioni, divieti in Germania. La Danimarca sospende un bilaterale. Francia divisa, diventa incandescente lo scontro tra Olanda e Turchia dopo il no del sindaco di Rotterdam al comizio del ministro degli esteri di Ankara e altri paesi in Europa. Stanno seguendo l'Olanda, divieti anche in Germania e Danimarca. Il presidente Erdogan, nazisti e islamofobi. Insomma, davvero incandescente quello che sta accadendo tra l'Olanda e la Turchia, ma anche, abbiamo visto, tra altre nazioni d'Europa. E poi le questioni che riguardano la politica interna e soprattutto il Partito Democratico con l'ex premier Renzi che attacca i giustizialisti e gli scissionisti. Ornando, niente avvisi di garanzia. Segreti, Renzi ha chiuso all'ingotto di Torino la convention del PD in vista delle primarie e lo ha fatto attaccando. Prima i giustizialisti, noi siamo per la giustizia giusta, che qualcuno ha confuso con il giustizialismo. E poi gli scissionisti, qualcuno ha cercato di distruggere il PD perché c'è stato un momento di debolezza, soprattutto mia. Ma si mettano il cuore in pace. Il suo competitor alle primarie, il ministro Ander Orlando, ha detto di essere d'accordo sul contenimento del clamore dei processi, ma ha ribadito di essere contrario a strette sugli avvisi di garanzia. Lo vedete ancora caldissima la questione legata all'interno proprio del Partito Democratico. E poi i quattro anni di Papa Francesco, la simpatia evangelica di un Papa missionario. Insomma, mai banale, Papa Francesco. Sono quattro anni dall'elezione di Papa Francesco, la metà del pontificato di Papa Ranzi, che era Giovanni XXIII, fu Papa per nemmeno cinque anni. Quello di Bergoglio è un pontificato segnato dalla sorpresa, a partire dal nome proprio di Francesco. Un'enorme popolarità, accompagnato questo cristiano sul trono di Pietro, per usare l'espressione di Anna Arendt su Giovanni XXIII. Fin dall'inizio il Papa ha messo in primo piano il carattere attraente del cristianesimo con un linguaggio evangelico e sempre vicinissimo a tutti. E poi a centropagina la fotonotizia che ci ricorda i sette gol dell'Inter sull'Atalanta. Vittoria, punto per 7 a 1, con tripletta di Icardi e Bainega. L'Inter riprende a correre. Andiamo a vedere invece le altre prime pagine, ancora su Repubblica. È sempre la questione internazionale, è il muro tra la Turchia e l'Olanda. E soprattutto l'alta tensione tra i due paesi a campeggiare proprio in prima pagina anche su Repubblica, alta tensione, tra Olanda e Turchia, l'ira di Erdogan, nazisti, la pagherete. E poi una notizia legata al terremoto e ai possibili sciacalli, come li chiama Repubblica stamattina, del terremoto. Ecco le indagini, speculatori nel mirino di tre procure, Errani, saremo durissimi. E con i furbi gli sciacalli sono tornati, anzi non se ne sono mai andati. Si aggirano ancora sulle macerie del terremoto, frugando nella disperazione per tirarne fuori lucro. Non si tratta più dei ladri che dopo le scosse si infilavano nei palazzi pericolanti per grattare l'argenteria. Gli sciacalli ora hanno il volto di chi vive a Roma, eppure si finge terremotato per rubare allo Stato. 600 euro mensili del contributo per l'autonomia alla sistemazione. E questa, insomma, un'altra notizia importante che troverete stamattina proprio sulle prime pagine di Quotidia Nazionali, sulla prima pagina e all'interno di Repubblica, nella fattispecie. Il caso legato invece alla sanità, Lorenzin, se tagliassimo le spese, i ticket, potrei abolirli. Potrebbe essere insomma una novità importante proprio da un punto di vista sanitario in Italia. Velocemente anche le altre prime pagine, per andare a vedere anche qui il titolo in primo piano, si ritorna sul giornale a parlare di quanto è accaduto a Napoli per la visita proprio del numero uno del Carroccio Salvini. Sfasciano le città, ma i giudici li lasciano liberi. I teppisti di Napoli stiano tranquilli, i pennellievi, per chi devasta e picchia. I poliziotti, insomma il giornale ha ripercorso un po' quello che era successo anche in altre parti d'Italia. Poi continua a far discutere l'uomo che ha ucciso il ladro Mario Cattaneo, difendevo i nipotini, ha detto ora vivo nella paura. Nel frattempo è indagato per omicidio volontario. E poi il fatto quotidiano, nessuno li può giudicare, insomma si ritorna un po' con un gioco di parole a una famosa canzone riguardando e andando all'interno del Partito Democratico all'ingotto processione di Edem per omaggiare l'indagato Lotti. E poi Libero, anche qui primo piano, chi fa i soldi con gli immigrati, insomma dal terremoto, qua questa volta i furbi di Libero sono legati invece agli immigrati, attraverso un sistema satellitare le navi umanitarie intercettano i barconi e vanno a prendere i carichi di disperati al largo dell'Africa. Poi li portano in Italia dove li gestiscono le coppe che più li trattano male e più guadagnano, scrive Vittorio Feltri. In prima pagina stamattina su Libero e poi il messaggero, Renzi sfida il Movimento 5 Stelle sulla giustizia, insomma è un tema di cui abbiamo già ampiamente discusso con l'ex premier ai grillini. Noi garantisti con raggi rinunciate all'immunità e affrontate le querele sul PD volevano distruggerci, ma questa comunità non si rompe più forte l'assa con Gentiloni. Quando insomma ormai è entrata nel vivo e come si è entrata nel vivo la corsa alla guida del Partito Democratico dopo appunto le dimissioni dell'ex premier Matteo Renzi. E poi con notizie sportive, con la Roma che riparte di slancio, 3-0 il Palermo nel posticipo proprio di ieri sera. Purtroppo è notizia che, o meglio, è per fortuna notizia che fa bene alla Crotone, che ancora una volta ieri è rimasta a secco anche contro il Napoli. Per chiudere la nostra panoramica nazionale, sulle prime pagine, la stampa, Primaria e PD, la sfida inizia sui migranti. Con Orlando torno in piazza per loro, Minniti, la sicurezza è di sinistra. Ieri è stato anche un giorno importante proprio per il ministro Calabresi, ministro degli interni. Nella notizia invece legata all'internazionale, il petrolio nelle mani di Trump, con il prezzo che continua a calare l'America, che adesso punta all'indipendenza energetica. Una delle altre tante novità che insomma sta cercando di inserire il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, appunto. Questa era la nostra rassegna stampa nazionale. Velocemente invece ci andiamo e ci soffermiamo sulle questioni che ci riguardano più da vicino e quindi ai temi calabresi. Partendo e ripartendo dalla prima pagina del Quotidiano del Sud, edizione di Cadanzaro, Lamezzi e Crotone, che resterà praticamente identica anche nelle altre edizioni, tranne ovviamente la notizia in primo piano legata ai territori. E quindi il taglio basso, ma lo vedremo tra pochissimo. Ciro Marina in primo piano, l'urlo di dolore alla corteo giustizia per mia sorella. Oltre a 2.000 persone la fiaccolata per Antonella. In piazza anche Oliverio e rappresentanti delle istituzioni. Indagini dall'autopsia ai nuovi elementi. Indagini che ovviamente continuano con l'autopsia che conferma l'accanimento sul corpo della donna. E ci sono tre indagati, guardate. Ci sono tre indagati per l'omicidio di Antonella Lettieri. La 42enne uccisa barbaramente la sera dell'8 marzo nella sua abitazione di Ciro Marina. Si tratta di una coppia di coniugi e amici della vittima, 50 anni lui, 49 lei, ed un uomo di 42 anni che frequentava Antonella da tempo. Un atto dovuto, si affrettano a chiarire i legali che assistono i tre indagati. Un'iscrizione necessaria affinché si possono espletare tutti gli accertamenti possibili, come ad esempio l'ispezione delle automobili dei due uomini alla ricerca di tracce o impronte. Sentiti dai militari dell'arma, i due coniugi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, al contrario del 42enne che invece ha inteso sottoporsi ad interrogatorio. Gli esami del RIS puntano alla ricerca di tracce e di DNA, perché l'assassino potrebbe non essere uno soltanto. L'autopsia infatti ha svelato come Antonella sia stata uccisa con due armi diverse. Un delitto d'impeto iniziato con 4 o 5 coltellate all'addome dal torace e proseguito con una ventina di colpi inferti con un'altra arma da taglio, forse una mannaia, che le ha fracassato il cranio. Una violenza inaudita alla quale la donna ha cercato di opporsi graffiando il suo carnefice. La pista è imboccata e quella passionale. La vita di Antonella viene passata al setaccio, anche perché quasi certamente la donna conosceva il suo assassino. Gli investigatori ne sono convinti. Davibo Valencia per la CNews24. Insomma, oltre 2.000 persone ieri a Ciro Marina, la fiaccolata per Antonella Lettieri ci ricorda stamattina il Quotidiano del Sud, la commessa barbaramente uccisa in casa la sera dell'8 marzo, come abbiamo raccontato anche in questo servizio. I cittadini rappresentanti delle istituzioni, il governatore Oliverio, intanto dall'autopsia emergono nuovi elementi sul delitto, alcuni dei quali ve li abbiamo anche raccontati. E poi la fotonotizia che racconta in maniera sintetica quello che si è vissuto proprio ieri a Ciro Marina durante la fiaccolata. Tanta commozione, ma anche tanta commozione a Petrizi, dove nelle ultimissime ore c'è stato l'ultimo saluto al Leandro Celia, quel tradicenne travolto e ucciso sui binari proprio da linea ferroviaria, nel suo vera tese. Aveva 13 anni ed era sempre sorridente. Da grande avrebbe voluto fare l'informatico e mettere su famiglia. Lo raccontava ai suoi compagni, lo scriveva nei temi, a scuola. A giugno avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media, ma sapeva di studiare poco. Era contento di avere tanti amici e un buon rapporto con i suoi genitori, quei genitori che hanno provato il dolore più grande che possa esistere, sopravvivere alla morte di un figlio. Leandro Celia è andato via troppo presto e quei sogni non li potrà mai realizzare. Stava crescendo Leandro, notava in sé i cambiamenti dell'adolescenza. I suoi amici, seduti sull'altare accanto a lui, gli hanno promesso di ricordarlo, sempre, di farlo vivere nei loro discorsi, nelle loro paure di una vita a volte crudele, un amico che ora è il loro angelo. In tanti hanno voluto rivolgere a Leandro un saluto, l'ultimo, anche chi non lo conosceva, perché la storia di questo giovane ragazzino di Petrizi, morto sui binari di Soverato, ha toccato tutti. Difficile trattenere le lacrime anche per Don Gregorio Montillo, vicario generale della diocesi di Catanzaro Squillace, che ha presieduto la concelebrazione eucaristica. E tra i saluti a Leandro, anche quello di Don Gino Martucci, direttore dell'Istituto Salesiano di Soverato, che ha parlato al cuore di tutti i giovani presenti. Dì ai tuoi amici, Leandro, di non vergognarsi di essere ragazzi normali, che non è da perdenti trascorrere il pomeriggio a leggere un libro o frequentare l'oratorio. Dì loro di saper scegliere cosa fare e cosa non fare. Quelli buoni come te, tutti ragazzi, sono chiamati a volare in alto, con l'alto vero, con l'alto. Rossella Galati per l'AC News 24 Insomma, davvero immagini che fanno pensare e drammatiche, purtroppo. E drammatica è stata anche la giornata sulle strade ai Calabressi con un altro, l'ennesimo incidente mortale che si è registrato alle nostre latitudini, questa volta sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di Cetraro, nel Cosentino. Scontro fra tre auto, un morto tra i feriti, anche la moglie incinta di Vito Sciammarella, proprio la persona che ha perso la vita. Ed è riportato stamattina in fotografia con una sciarpa della Juventus davanti proprio allo stadium di Torino. Amava la Juve, insomma amava soprattutto la sua famiglia. è morto in uno scontro sulla statale 18 Tirrenica, nei pressi di Cetraro, proprio nelle ultimissime ore. E poi le altre notizie che hanno caratterizzato le ultime ore in Calabria. Catanzaro, la causa del litigio, la gelosia dell'uomo, la minaccia, la compagna con il coltello, dall'allarma alla figlia quindicenne di lei. Avvibo invece, clan Patania, stangata in primo grado, nove condannati su 14 imputati. Si chiude il processo contro il clan di Stefanaconi. E poi, taglio basso, Catanzaro, Ciconte, la coalizione prende forma, si guarda ovviamente alle elezioni amministrative vicine alla chiusura della fase osplorativa del mandato. in campo Colace Costanzo e Guerriero. Resta aperta la trattativa per raggiungere un accordo con Ammottola e ancora province, viscomi, inutili, polemiche. Stiamo facendo ordine, interviene il vicepresidente dell'Aggiunta, proprio sulle questioni delle province calabressi e non sola. Gioia Tauro, nel frattempo, vertenza a porto e il giorno decisivo, mentre a Reggio è incendiata l'auto del parroco di Bocale. E poi, in sintesi, le altre notizie legate allo sport, con un ricchissimo weekend dietro le spalle, partendo dal calcio e dalla Serie A, Crotone, lo dicevamo prima, sconfitto anche a Napoli, mentre in Lega Pro ritorna a sorridere il Cosenza con Statella e Tedeschi. È andata male, invece, il Catanzaro, che poi, nella post-gara, ha vissuto anche attimi di panico, soprattutto per due giocatori. Catanzaro cappò al novantesimo contro il Melfi e aggredito a tifosi, aggrediti due giocatori giallorossi, proprio a fine gara. Sorride, torna a sorridere, anche la Vibonese, vittoriosa, mentre la Regina cade, ancora una volta, in campionato. Guardando al basket, la viola Reggio Calabria, battuta, ma ancora può sperare, nella salvezza. È la squadra di coach paternoster. Un po' queste le notizie che caratterizzano e che hanno caratterizzato il weekend e l'ultima giornata in Calabria, a Quotidino del Sud, prima pagina, velocemente anche nelle altre edizioni, con il taglio basso a Cosenza, edizione di Cosenza che guarda la manna e il racket sul lungo fiume. Il collaboratore di giustizia spiega come il suo clan lucrava sull'importante kermesse estiva. Alcuni imprenditori sarebbero stati costretti a pagare mille euro a stand. E poi ancora, altra edizione, quella di Reggio Calabria, sempre del Quotidino del Sud, evidentemente, il direttore generale pronto il bando, città metropolitana, solo dopo quello per il segretario, nessun portavoce, a capo di gabinetto interno. Strappo con l'attuale DG di Palazzo Alvaro, Antonino Minicucci. Queste, insomma, notizie interne al Palazzo San Giorgio, Palazzo Comunale di Reggio Calabria. E ancora, Quotidino del Sud, nell'edizione di Vibo Valencia, si guarda alle periferie e Vibo che entra nella graduatoria definitiva per i fondi del risanamento di luoghi in cui si concentra il degrado socio-economico. Il capoluogo si piazza prima di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria in materia proprio di periferie. Questo sull'edizione di Vibo Valencia del Quotidiano del Sud. Andiamo anche sull'edizione della Gazzetta del Sud. Prima pagina, come sapete, oggi la Gazzetta del Sud è un'edizione unica, edizione Calabria, appunto, e in primo piano quelle stupidaggini, davvero, si può non chiamarle in altra maniera, scritte sui social, razzisti che odiano la Calabria, si guarda a questo in primo piano sulla Gazzetta del Sud e quella frase proprio sull'incidente ha soverato uno in meno avanti il prossimo e li chiamano social network, le cattiverie contro i meridionali, quando la stupidità diventa violenza. Nel dettaglio, felicissimo e contentissimo per la morte del calabrese sotto il treno mentre si faceva un selfie, il razzismo diventa violentissimo sul web contro calabresi e siciliani piovono ingiurie e offese, basta una ricerca su Google per ritrovare espressioni che da secoli vengono rivolte soprattutto agli ebrei riferite alla gente del Sud, vengono persino evidenziate le presunte differenze di colore di pelle tra meridionali e settentrionali, si parla ancora di questo nel 2017, un tale Giorgio, campione di imbecillità e cattiveria, se la prende pure col 13enne morto sotto il treno, mercoledì scorso, tra Soverato e Montepaone, del povero Leandro Celia, scrive uno in meno e avanti il prossimo, raccogliendo due mi piace al suo post in pochi minuti, istigazione al razzismo, se fino a poco tempo fa la facevano persone coperte dall'anonimato o da profili falsi, ormai c'è gente che razzola esponendosi con nome e cognome come se fosse un vanto. Umberto Eco parlava di legioni di imbecilli sul web, in questo caso ne basta uno solo per dargli ragione, o webbetti come li chiamava, qualcun altro aggiungiamo noi. A centro pagina la fotonotizia che ci ricorda la commozione vissuta a Ciron Marina, la fiaccolata di dolore e speranza, proprio in ricordo della donna uccisa a Ciron Marina, appunto, e ancora le altre notizie, al taglio alto che guarda il calcio, ma che poco poi ha a che fare con il calcio, con attimi di panico vissuti a Catanzaro dopo il K.O. contro il Melfi, vissuti soprattutto da due giocatori, Gomez e Leone, attaccante il primo, portiere il secondo, i due gelorossi dopo la partita persa a Melfi, finiscono in ospedale, Cosenza e Vibonese vincono con la regina invece K.O. Le altre notizie dei territori, Cetraro carambola sulla statale, un morto e quattro feriti, lo abbiamo visto, Reggio aeroporto mercoledì, nuovo vertice al Ministero ed è attesissimo questo nuovo vertice legato allo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, a Vibo Valencia, Clampatania, nove condanne e cinque assoluzioni. Prima di passare alla notizia che riguarda Catanzaro, a Vibo Valencia immostra i geni del latino con il certamen che andiamo proprio a vedere con una sfida a parole proprio latine con l'ormai lingua morta che poi, come potete vedere, tanto morta non è, guardate. Diego Polimeni, 18 anni del liceo classico Leonardo Sciascia di Sant'Agata Militello è il vincitore della sesta edizione del certamen, la sfida fra liceali italiani esperti della lingua latina. La gara annualmente promossa e ospitata dall'Istituto Michele Morelli di Vibo Valencia ha visto convergere nella giornata di ieri studenti provenienti da tutta la Calabria e da sette regioni italiane. Grande entusiasmo e soprattutto vasta attitudine nella lingua antica hanno dimostrato i partecipanti che si sono sfidati sì per il premio finale ma soprattutto per dimostrare che il latino non tramonta mai. Non nascondo l'emozione e anche la sorpresa della vincita perché veramente non me l'aspettavo e sono veramente entusiasta e molto soddisfatto del lavoro e anche del riconoscimento ottenuto. Significative le parole con cui i docenti delle varie scuole hanno presentato la bravura degli allievi, soddisfazione anche per loro, sempre pronti a partecipare ad un'iniziativa meritoria che pone il liceo vibonese come avanguardia giovanile per la divulgazione del latino. La cultura classica sono le nostre radici, le radici della cultura europea, le radici della nostra cultura occidentale. Siamo molto soddisfatti di essere arrivati alla sesta edizione. Ringraziamo tutti gli studenti partecipanti, otto regioni da tutta Italia, 15 licei classici, portano a casa il primo, il secondo e il terzo premio tre differenti regioni. La Sicilia porta il primo premio, la Calabria il secondo premio e il terzo premio alla regione Lazio con il liceo classico Mammiani di Roma. Cristina Iannuzzi per la Cineus 24. Le ultimissime notizie, gli aggiornamenti sul sito www.lacineus24.it le andiamo a leggere insieme. In primo piano, sentenza del processo romanzo criminale a Vibo, le condanne per il Campatania lo abbiamo visto e poi l'omicidio a Ciron Marina ci sono tre indagati ma anche giocattoli contraffatti maxi sequestro al porto di Gioia Taro. Andiamo a leggere velocemente questa notizia con i due carichi che erano stati imbarcati nel porto cinese di Shantù e destinati secondo la documentazione adoganale esibita in Montenegro in Croazia 52 mila euro il valore della merce sequestrata. Altra notizia proprio delle ultimissime ore in Calabria un altro sequestro manufatti abusivi nei pressi del faro di Capovaticano nel Vibonese sequestrata area al momento del controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera erano evidenti i segni di deturpamento e alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti a vincoli mediante la realizzazione di terrazzamenti e sbancamenti del terreno è accaduto prosegue incensante proprio l'attività di controllo a tutela del demanio marittimo e dell'ambiente marino costiero effettuata congiuntamente da parte militare della Guardia Costiera di Vibo Valencia della stazione navale della Guardia di Finanza proprio ancora di Vibo Valencia in località Grotticelle nella comune di Ricadi le altre notizie se volete approfondire quindi sul nostro sito lacinus24.it non ci sono ulteriori aggiornamenti allora vi rimando ai prossimi appuntamenti della nostra informazione a partire come sapete dalle ore 14 buona giornata dalle sue buon passo visita il sito www.lacinus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie